buongiorno ai telespettatori di antipodi news da roma come potete vedere siamo l'hotel forum un hotel storico e questa è la vista che vi regaliamo oggi cari australiani siamo con la direttrice maria grazia espositi ciao maria grazia grazie di essere con noi senti questo è un hotel storico che nel corso degli anni e nel corso della sua lunga vita ha visto dei personaggi famosi famosissimi quali sono da chi è stato abitato allora è stato abitato inizialmente il nostro primo ospite è stato rock hardison primo cliente ad essere registrato anche prima sarei morto di AIDS nota di cronaca e con il tempo abbiamo avuto la first lady jacqueline kennedy e tutti i personaggi politici e dello spettacolo più importanti come alain de l'honne brigitte bardo michelle piccoli e la greco e infine tanti altri chiaramente e poi anche dalai lama senti un aneddoto qualche cosa che possa incuriosire i nostri telespettatori australiani brigitte bardo era così bella come si vedeva alain de l'honne così affascinante l'incantatore delle donne se non era incantatore lui appunto qualcosa di curioso che possa spizzicare la nostra fisica curioso tante cose ci possono essere in un albergo curioso immagino però è difficile ne faremo una serie televisiva ambientata qui non dimentichi che produttori state allerta è difficilissima adesso raccontarne una ma quella che mi è rimasta più impressa è soprattutto quando il dalai lama mettendomi la sciarpa dell'amicizia mi sussurrava ci rivedremo ancora questo è stato per me un fatto eccezionale e vi siete rivisti oppure intendeva in un'altra dimensione? ancora e questo mi ha anche un po' impressionato è vero chiaramente però certo in un albergo come questo di fatti importanti e belli ce ne sono stati tanti ora la cosa più straordinaria è che siamo di fronte al foro di nervo di Augusto ecco lasciamo un po' spazio così la camera può ben descrivere al di là delle parole e diciamo che insomma siamo nel cuore della città medioevale è emozionante è emozionante di per se stesso quindi è anche molto tranquillo che uno non direbbe in mezzo a Roma penso al traffico e invece c'è un'atmosfera idiliaca quasi pastorale esattamente un po' di musica esattamente senti allora facciamo una cosa in sintesi noi invitiamo tutti i nostri telespettatori a venire a godere dell'hotel forum per un drink per un aperitivo ma soprattutto su qui in questo rooftop rooftop americanda bellissimo che ribattezzeremo australian bar è vero è vero ciao da fatti